Questione di reputation, direbbe chi mastica il gergo anglofono della comunicazione. E' la reputazione, infatti, a essere in gioco nello scandalo delle missioni truccate che ha travolto Volkswagen. Non solo la reputazione della casa di Wolfsburg, ma anche quella di BMW, Mercedes, insomma dei grandi marchi che incarnano l'eccellenza dell'industria dell'auto tedesca. Un modello a cui molti automobilisti hanno imparato a guardare con rispetto, almeno finora. Dopo lo scandalo che è emerso sento di non potermi più fidare di quello che dicono. Come potrei? E su quali presupposti? Ora non ne sono più sicura. Non penso che comprerei una Volkswagen o un qualche altro marchio tedesco dopo quello che è successo. Già emergono i primi segni del contagio. La rivista tedesca Autobuild riporta i risultati dei test su strada della BMW X320D che, secondo le rilevazioni della testata, supererebbero di sei volte i limiti fissati dalla normativa europea per l'Euro 6. L'industria dell'auto è tra le più importanti in Germania, ricorda il professor Martin Körning, e Volkswagen è un marchio leader. La domanda è cosa possono fare a questo punto? Tentare di limitare il danno rendendo più trasparenti le modalità per testare le emissioni? Coinvolgere lo Stato nel sistema dei controlli? Questo forse potrebbe restituire parte della fiducia perduta. Mentre procede l'inchiesta interna di Volkswagen per identificare i responsabili della truffa, il gruppo sta mettendo da parte 6 miliardi e mezzo di euro per coprire i costi derivanti dalla crisi. Ma molti dubitano che possano essere sufficienti.